Speriamo intorno alla provincia. Succede che la situazione è drammatica, siamo in una condizione di difficoltà e di criticità terribili. Ci sono frazioni isolate dove non c'è corrente. Da quanti giorni? Da tre giorni, in alcuni casi anche più di tre giorni. In questo momento stiamo cercando di liberare le strade provinciali, ma abbiamo bisogno di turbine quelle grandi, perché né le pale né tantomeno le lame ormai servono più. Ma la produzione non ha le turbine? Quelle che abbiamo le stiamo utilizzando. Alcune vengono da fuori, stanno arrivando, c'è la protezione civile di Trento, c'è Bolzano, ma noi siamo in una situazione di assoluta emergenza. Abbiamo bisogno tra l'altro anche di operatori, di persone che vengono e sanno operare, perché i nostri operai dipendenti, anche quelli privati, stanno lavorando da oltre 24 ore ininterrottamente. Il problema grosso è che noi non abbiamo notizia spesso di persone che stanno nelle frazioni, in case sparse, in case difficilmente raggiungibili, senza corrente, senza comunicazione e non sappiamo come stanno.